Vi ricordate la settimana scorsa quell'oggetto così particolare che ci ha sfiorato letteralmente? Questo oggetto ha un nome un po' strano, si chiama 2012 TC4 ed è un piccolo asteroide, è uno di quelli per certi aspetti più pericolosi per la Terra. Più pericolosi lo dico fra virgolette però, nel senso che noi sappiamo che questo oggetto è piuttosto piccolo, però ha un'orbita che è interseca a quella della Terra, quindi è un Neo e il gioco della sua orbita e della nostra fa sì che periodicamente ci siano dei passaggi molto vicini con il nostro pianeta e uno di quelli è proprio successo la settimana scorsa, giovedì scorso, nella mattinata italiana. Questo oggetto ci ha raggiunto e ci ha letteralmente sfiorato, raggiungendo un'altezza comparabile con quella dei nostri satelliti artificiali geostazionari, per intenderci quelli che trasmettono le televisioni. L'oggetto quindi ci è arrivato e ha fatto il flyby alle 7.52 di mattina, ora italiana, e quindi mentre da noi era giorno, qualche ora prima, nella traiettoria di avvicinamento, noi dell'osservatorio di Loiano, io e i miei collaboratori, con il telescopio Cassini, che è un telescopio di 1,52 m dell'INAF e dell'Università di Bologna, da Loiano abbiamo visto, diciamo, l'ultima parte della traiettoria, quella in cui l'asteroide si avvicinava alla Terra, si è avvicinato, poi ha fatto, diciamo, un mezzo giro ed è entrato nell'emisfero di giorno nostro, rispetto all'ora nostra. Quindi nelle ore precedenti, nella notte precedente dell'11 ottobre, da Loiano abbiamo visto, e lo vediamo qua, eccolo qui l'asteroide. Questa è una piccola animazione un po' accelerata, equivale a circa 7 minuti di osservazione. L'asteroide l'abbiamo catturato circa 200.000 km di distanza dalla Terra, ma ci stava arrivando contro velocissimo, lo vedete anche dall'animazione, rispetto allo sfondo delle stelle, si vedeva chiaramente che l'oggetto si stava muovendo, addirittura si poteva apprezzare che stava accelerando, quindi la velocità dell'oggetto si apprezzava ad occhio, che stava incrementando. E quindi l'abbiamo seguito per circa 4 ore, e con il telescopio di Loiano, grazie alle capacità del nostro telescopio, che permette non solo di ottenere immagini come questa, in cui noi stiamo seguendo le stelle, si vede l'oggetto che si muove, ma possiamo anche fare l'inverso, cioè possiamo agganciare l'oggetto e stare su di lui, lasciando strisciare le stelle. Questa particolarità del nostro telescopio ha permesso, ad esempio, di fare tutta una serie di misure un po' più sfiziose, un po' più, diciamo, delicate, in particolare per quanto riguarda l'analisi spettroscopica dell'oggetto. Grazie a tutti.